capire cosa sta succedendo vediamo se effettivamente siamo in live se funziona tutto mettiamo così si sta caricando ci siamo ok oh thanks my friends thank you for like thank you for like thank you friends ok signori siamo in live vado a vedere un attino tutte le varie impostazioni no 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 così ma così dovrei riuscire a seguire tutto almeno ci provo allora mettiamo l'audio che anche questo che era stato levato ok mi dovreste sentire mi dovreste vedere fatemi vedere o x-men siamo tornati con le live signori siamo tornati con le live sappiatelo informiamo tutti e mi senti x-men mi sentite mi sentite mi confermate che mi sentite siamo in live voglio capire se no 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 cosa ok mi sentite si l'ho visto io dal mio canale va bene mi sentite allora intanto è che va dalla notte quindi andiamo a dormire velocemente ciao iancobbenuto in live allora signori sono tornate le live sono tornate le live fondamentalmente saranno no non ti sentiamo come non mi sentite non ti sentiamo sta rispondendo alla tua domanda come fai a dire che non mi come fai a dire che non mi senti se e rispondi alla mia domanda sì ti sentiamo allora signori siamo tornati con le live ho appena tirato il piccante di diamante e la cosa non basta dovete bene oh tutto bene signori siamo tornati con le live le live fondamentalmente saranno il sabato e la domenica io vado a lavorare come io vado a lavorare come la iphone a ragazzo alexander bello di live che vuol dire iancò che mi stai di allora o dai e amico romano ciao sem benvenuti in live benvenuti a tutti quanti in live signori fa piacere che siamo in tanti così subito a botta mi piace mi piace come questa bassa la music minecraft assolutamente sì ho in vostra richiesta per me è un ordine hello friends a esito di richiedere il permesso per parlare allora volete passato l'audio della live della di minecraft così va bene mi confermate così va bene l'audio signori next game thank you thank you thank you so much a ta a ta welcome in live perfetto ok sono il moderatore allora cosa stiamo di cosa stiamo parlando signori stiamo dicendo che le live torneranno il sabato e la domenica a meno che non ci saranno grosse variazioni fondamentalmente le potremmo fare il sabato pomeriggio o il sabato sera o la domenica pomeriggio o la domenica sera potremmo fare sia il sabato della domenica sempre di pomeriggio sarà o di pomeriggio o dopo cena signori ciò non esclude che dopo cena noi possiamo vederci per fare un'altra un'altra live ciao alessia mitica mitica amica mia grazie mille sempre per tutto il supporto anche il live se riuscite a passare grazie mille se abusi del potere sul costretto di garantiti all'autorità allora cosa vi posso dire like per te sempre grazie mille grazie mille per tutto il sostegno grazie mille mitica mitica allora gne 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 intanto oggi ci sarà sta live su minecraft signori in cui poi io questa live la spezzetterò in tre episodi e partiranno gli episodi saranno fatti gli episodi della settimana perché fondamentalmente io durante la settimana mi viene molto complicato registrare e quindi ci per miracolo mi è arrivata la notifica infatti era un miracolo se arrivò la notifica ogni volta è un ternalotto un server multiplayer quello ne avevamo parlato mesi e mesi fa si potrebbe anche riorganizzare per giochicchiare un po' tutti quanti assieme si potrebbe anche fare con calma signori con calma intanto le live sono tornate sono tornate quindi siamo siamo operativi su tanti fronti dobbiamo io però non sento ovviamente l'audio del gioco quindi forse deve alzare leggermente il volume va tutto bene quello si potrebbe organizzare ma con calma cosa facciamo nell'episodio in questa live in questa live dobbiamo costruire da istach e organizzare facciamo video live cosa si può fare intanto ripartiamo un attimino intanto ripartiamo ok facciamo inserire molti per esempio il top soprattutto quest'estate si può fare signori si può fare guardate da fino a un like vale doppio perché sono a Miami un like americano mitica a Miami spettacolo che sono dovrebbe essere allora se fammi pensare se siamo a pranzo a Miami state pomeriggio siete a metà mattinata siete a metà mattinata no io però mi devo iniziare a muoverci qua stiamo a camminare sarà le 11 ecco metà mattina qui ci sono stati io a New York ci sono stati viaggiare in off se sono stati a New York però da questo lato non a Miami allora ok in alto vogliono gli schiaffi allora signori io voglio costruirmi intanto una zona dove poter mettere del grano ok in grano e ortaggio lo faremo qui per fare una zona io ci sono nata sei nata dove a New York o a Miami non ho capito mi è mancato questo passaggio mi è mancato questo passaggio mi è mancato questo passaggio allora operativi Miami ah no io sono stato in viaggio di notte sono stato a New York e poi sono andato in Messico ho visitato quella zona di lì allora prima di tutto ci serve questo ci serve questo ci serve un bel po' di babu rotation for fall prendiamo un bel po' di materiali che sicuramente non ci basteranno mai nella vita però intanto pigliamo tutto il pigliabile e andiamo a fare un po' di cianfrosaglie ma ollo io sono in nuova zerano da un mese in mente perché mi sono preso un anno sabato non perché non perché potrei aver fatto scivolare la presa da due scalini e sono non ineguibile per bandente mia forse non la sapevo sta cosa invece perché ci sono andata il mio padre un americano ok ma già siete ma già è estate lì o c'è ancora freddo ma sapevi cosa Alex che sei stato a New York si ci sono andati in viaggio no sapete che mi sono sposato sono un pirla sono oltretutto sono un pirla ma non ho sempre di più l'Italia guarda New York io ci sono stato quei giorni che è fantastica ed è fantastica cioè proprio sono stato completamente un altro mondo però il mangiare il mangiare cioè per quanto tu puoi dire bella New York ma quello si lo sappiamo un po' il mangiare il mangiare cioè non non si discute in pratica come Miami allora io direi di mettere una bellissima crafting table qui così evito di romper mille pallonzole ho anche dedicato il post nell'allora fanpage dici bene nell'allora fanpage non si sa più non esiste più niente allora questi trasformiamo tutti ma dei video su brawl ci possono stare dei brawl stars ma non gioca brawl stars da una vita praticamente quindi non ti saprei dire Manuel non ti saprei proprio dire non ti saprei proprio dire è grande perché come il film è simile a Central Park e le case di Militra il resto è una simulazione allora facciamo il primo ponticello quando guarda pro stars non lo so perché non ci gioco da una vita dovrei andarlo a riscaricare e dovrei andarlo a ricapire come si gioca praticamente allora abbiamo fatto questo giusto? si io direi che basta basta così basta così poi potremmo col marrone io faccio ho fatto tutto il giro intorno si potremmo fare tutto il giro intorno così io sto andando a a fantasia allora se noi facciamo come lo organizziamo? comunque se ti va naturalmente di vederli ti aspetta a me ti fanno la vacanza con la famiglia grazie mille Alessia un bel viaggio un bel viaggio sarebbe come lo organizziamo questa cosa signori allora allora potremmo fare 1,2,3 di grano e poi fare due strisce così di patate e carote si allora fare una striscia centrale di legno che la lasciamo poi 1,2 3 no facciamo così allora 1,2,3 e 4 quella la facciamo girare e poi 1,2,3 e 4 va bene ok ok allora allora 1,2,3 aspettate io per il calcolo 1,2,3,4 con quello ok quindi l'ho detto 1,2,3,4 quindi 5 e andiamo a girare quanto lo vogliamo fare lungo? assai un bel po' un bel po' signori che abbiamo bisogno intanto il cibo il cibo serve sempre tanto sì ci sta allora che praticamente ciao Alessia grazie mille per essere passata allo live grazie mille grazie mille allora oh Gianni lo sta cucinando grande Gianni benvenuti live 1,2,3,4 e 5 ok facciamo 1,2,3 e 4 quello centrale buon weekend anche a te Alessia 1,2,3,4 ora per non sbagliare torniamo indietro e facciamo giusto perché questo 1,2,3,4 no facciamo che aspetto un attimo 1,2,3,4 escludendo 1,2,3 qua io ogni volta non sparire no, no, no non sparisco non sparisco ora se ci rimani secco sarò costretta a mandare fondamentalmente questo adesivo che muove pensate che le live di sabato non ci sono niente e vabbè ora le cose sono cambiate signori allora se questo lo lascio faccio 1,2,3 e 4 e il quinto che mi gira e mi chiude questo ingresso lo lascio 1,2,3 e 4 e il quinto che mi gira e mi chiude giusto 1,2,3 perfetto e si le live inizialmente signori intanto avevamo ripartiti io vi chiedo scusa per essere poi sparito dalla faccia della dev non essendo più in live non essendo più in live però ora ci siamo perché sono cambiate scp arriviamo scp si potrebbe anche fare sapete ah no no scp no scp no guarda l'altro giorno ho visto no tempo fa quando è svanata con le live si parlava di rifare le live e non 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 ce l'ho fatta ho visto praticamente cosa si deve fare per 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 finirlo ma è una pazzia più totale è proprio pazzia 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 ho fatto forse troppi slab di 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 bambù però va bene dettagli allora cosa cazzarola stai facendo brutto stupido stafa pro welcome hi mustafa welcome in live how are you che inglese brutto un altro gioco invece carino che ho visto con il quale si possono fare delle live signori è è super market simulator una cosa del genere vedevo oggi un video di di stepney che secondo me per fare live può essere molto divertente molto divertente molto divertente lo conoscete è il simulatore quello di 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 gestione del supermercato praticamente non so se l'avete se l'avete presente poi voglio portare pure tomberrider signori che hanno fatto il remake stanno giocando tutti lo so lo so ma lo giocherò pure io penumbria thanks you bro yanco yanco il mio è il mio traduttore in inglese yanco traduce e traduce voglio portare pure eurotrack simulator signori tanta roba voglio portare avanti la serie la serie di dispro che sta andando molto bene questo mi fa piacere non so se voi la state seguendo ma io mi sto divertendo casicchia a farla e quindi dai dai tante belle situazioni da portare avanti tante belle situazioni da portare avanti ti serve il volante no si il volante vado di tastiera è tutto tra l'altro forse siamo riusciti a farlo la stessa dimensione ma perché lì c'è sta cosa lì brutto ah perché lo spigolo è impossibile da finire pure il venezia è impossibile farli vincere il tribet invece vediamo vediamo allora di terra ne abbiamo solamente 34 cupid no cupid no cupid proprio è qualcosa che io odio pesantemente 2 3 e 4 1 2 3 4 no questa non ce ne sta qua via e abbiamo perso un blocco di terra grande maullo 2 3 e 4 e io direi che questa asse centrale ce la facciamo guarda che serve di quelli che ti rompono guarda che nei serve di quelli che ti rompono 7 tamponi uno perché sei scomodo da stasera no no ma non giocherei online no 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 che c'entra giocherei sempre giocheremo sempre a modi di viaggio per passare il tempo e ciò non esclude che stasera signori dopo scena allora io se dopo però se più tardi allora partiamo dalle cose zo tycoon per pc z tycoon non lo conosco però ricordo che l'anno scorso giocavamo a quel giochino in cui dovevamo dovevamo inventare i videogiochi vi ricordate come si chiamava mi aspetta anche fifa eh no fifa fifa penso che ormai si è finito fifa aspettiamo il prossimo oramai aspettiamo il prossimo oramai fifa allora io devo andare a riguardare un pochino di terra voi tutto a posto signori che mi raccontate che mi raccontate tutto bene tutto benoschi tutto benoschischi scabario potrebbe essere divertente riportarlo in live intanto signori chiariamo una piccola una piccola cosa molto importante le live saranno per ora solo i fine settimana ovvero il sabato e la domenica se riesco ci organizziamo per farne anche il sabato sera tutto quello che volete eh però cazzerò la mucca la mucca dobbiamo portarci da quel lato ma la zero il sabato sera si va figa quella live la faccina con due fiori della disco grande yanko grande yanko no 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 va bene hai la priorità quella vince su tutto quella vince su tutto non ci sono live o altre cose che possono reggere quella vince su tutto allora l'obiettivo principale è quello di costruire intanto una bella zona dove poter coltivare la dove poter coltivare sia il grano che patate e carote quando un giorno le troveremo e non sarebbe male come situazione così noi però stiamo facendo un grave errore perché giustamente qua dobbiamo anche metterci l'acqua perché sennò non si fa nulla di nulla di nulla ok fatemi vedere solamente una cosa signori si perfetto ok ci siamo prendiamo la partita e li continuiamo a mettere genio volo a basso perché in alto non hanno gli schiaffi perché sta cosa ok dobbiamo andare a recuperare altra terra perché mi manca adesso mi trova qua recuperiamo altra terra recuperiamo altra terra vi dicevo che se io poi più tardi devo uscire sono 5 e un quarto siamo in live da un quarto d'ora io più tardi devo uscire però se però se se riesco a fare tutto perché devo uscire per andare a fare la spesa in tutto questo mi si sta scaricando il computer in tutto questo ho un computer nuovo signori vedete come Minecraft gira bellissimo siamo in live da computer nuovo ho preso un MSI con una scheda grafica queste cose perché iniziano a fare i lazeroni bisogna fargli capire come funziona ok mi basterà stare a terra no perché se noi costruiamo la farm di cose da mangiare FIFA 24 si può ancora fare tanto manca ancora tanto a settembre ora mi fa male rossa della guancia a sinistra con un graffio sul labbro mentre il mio compagno da banco gli fa male il collo e diverse altre cose fino a ci siamo chiariti e alla fine ci siamo chiariti ma non ho capito vi siete presi a schiaffoni Alex che poi non vi dovete preoccupare ma come fa il minecraft non devi fare il rosaggio il computer nuovo il meccanismo il meccanico mi fa decine tranquillo poi posso dire tutto tutto esperto iniziamo giochiamo comunque si se quello di prima troppo sopra cosa c'è anche la lavatrice che sta lavatici allora allora no ma ce l'ho già da un bel po' tutti i vari video che sono usciti nel ora a marzo da metà marzo in poi già erano fatti col computer nuovo no l'ho rodato per bene già l'ho rodato per bene allora andiamo a mettere un pochino di terra c'è qui in teoria io ho pensato di fare questa live farla in maniera tale da poi poter ripubblicare i video di questo che sto facendo adesso ma che cazzo ma quanto cazzarra di terra ci vuole andiamo a riprendere la terra il minecraft è più un gioco da fare in live secondo me secondo me si perché ti passi di più il tempo così con la live meno costruisci tante cose si mi sa che farò così mi sa che faremo le live di mancraft signori poi prenderò il video che tutto questo sto registrando lo taglierò in tante parti e praticamente lo pubblicheremo sul Alex tu ti hai fatto capire che sei l'alfa e quel stupido beta del tuo compagno è rimasto al suo posto e comunque Gianni non ti garantisco niente per FIFA non ti garantisco niente per FIFA guarda potremmo potremmo se rischio organizzare qualche altra cosa sul rocket sul rocket la potremmo organizzare però su FIFA la vedo difficile la vedo difficile anche perché infatti per ora sono da noi in Sicilia si dice intrippato da voi si dice sapete cosa vuol dire intrippato 17 rocket league che stasera stasera mi dice vado per godermi la serata rock and roll con due band grande Alex io puoi essere che dopo cena mi metto bello tranquillo con neurotrack mi faccio no non lo so di cui una la conosco e ci sono amico grande Alex ti vogliamo qualche concerto vogliamo che fai i concerti tu Alex mio che vai a cantare tu farmi capire un attimino quella situazione mi ho fatto blocchi di 4 quindi e là con due cazzo l'aglietto io ora ma se gli butto la fonte d'acqua sopra da sotto che tocca l'erba secondo me funziona lo stesso e quando fai dormire comunque qual è il termine che avevo detto lo farò ma one day dai grande grande Alex se vogliamo un concerto e voglio i biglietti gratis sappilo sappilo voglio i biglietti gratis mi ha intrippato ecco vi sto parlando troppo volume zitto vi sto parlando del termine intrippato nel senso mi ha preso molto mi ha preso molto giocare a mi ha preso molto giocare a ice pro mi ci sto veramente divertendo tanto a tanto 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 e allora la zappetta mi serve che c'è rossi veramente là sotto quindi quella serie che tra l'altro sta andando bene ripeto non so se voi la state seguendo però sta andando bene quindi quella la voglio portare avanti e poi vediamo poi si secondo me minecraft la miglior cosa è farlo in live con calma giocare senza senza troppi patemi non c'è una zappetta già iniziata no forse no va bene dobbiamo vedere se riesco a far funzionare quello che ho in mente ma mi piace la mia casetta così col camino carino e coccolosa vi gusta vi gusta non vi gusta vi gusta non vi gusta vediamo una cosa se io mi butto qua sotto giusto e si però mi fa passare e che ne so per esempio qua metto acqua non è più un modello di imprenditori alz giusto per le giovani donne un po' d'acqua la metti lì prendi un'altra ponte d'acqua la metti qui vediamo se funziona sarà brutto da vedere da io come cazzo la risalvo ora ma porca tanto piglia un altro secchio d'acqua è una cosa migliore doi doi doi